Come che pizze? Mi taglio così pizze di pizze, no? Sei qua, ce ne prende un colpo, l'immigità! E' giusto! Ti metti il muro? Hai visto? Dai, su! Dai, su! E' giusto? Dai che non salutiamo dopo! C'è un bacio, ti senti? C'è un bacio! Non ti piace così? Sì! Non ti piace così? Sì! Sai che io ho una bambina di attesa? Quando era grande come c'era? Il papà si è tagliato la parte! Dove c'è il tunnel di barriere, le barriere per terra? Sinistra, sinistra! Pietro, devi tornare indietro! Pietro! Pietro! No! 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 No!